Ciao Astronomers! Oggi testo la versione 2.8 filmware per l'EagleCore che stiamo sviluppando. Stiamo aggiungendo il supporto a più cameras come la nuova Nikon Z50 Stiamo aggiungendo il tempo del delay tra le foto consecutivi quindi puoi impostare un tempo quando la temperatura ambientale naturalmente calderà il sensore del camera. So, we are going to release soon, eh? So, keep following us!